I numeri sono circa 90 milioni di debiti fuori bilancio, che vengono quasi tutti da sentenza. 30 milioni con Messina Ambiente, il concordato costerà, con ATM ci sono una cinquantina di milioni che possono ridursi quasi a 16 attraverso un'operazione di patrimonializzazione. Allora una città come Messina, che già regge il botto sul bilancio, perché il bilancio dell'anno scorso è il bilancio del 2016, i revisori, lo sapete tutti, hanno reso pubblico il dato di un monitoraggio. 20 milioni di euro di obiettivi non raggiunti. Noi abbiamo monitorato dall'altro lato, lunedì si incontra la ragioneria con i revisori, abbiamo altrettanto monitorato. Anche loro hanno monitorato assieme a noi perché saranno fermati alle entrate. Ma il dato effettivo è che lo squilibrio è di 6 milioni di euro e non di 20. E il bilancio del comune di Messina regge questa botta. Allora, stare a dire il dissesto c'è, il dissesto se c'è si dichiara, ma il dissesto non c'è. Allora dissestare una città, dissestare una città, quando non ce n'è ragione, che significato ha? Chiaramente l'ha in ginocchi perché i crediti col dissesto non si prendono più. Chiaramente l'ha in ginocchi perché i crediti col dissesto non si prendono più. Chiaramente l'ha in ginocchi perché i crediti col dissesto non si prendono più. Chiaramente l'ha in ginocchi perché i crediti col dissesto non si prendono più.